Amici interisti, amici di YouTube, amici di Facebook, buonasera a tutti! Parliamo di, parliamo di, parliamo di Juve! Questa sera si parla di Juve e della qualificazione che gli è andata in porto a Conseisau. Lo sao o non lo sao? Che meraviglia questo Sergio Conseisau! Grazie Sergio, grazie Conseisau! Vecchio cuore nerazzurro! Ti tiravo i seggiolini quando ero in curva e adesso ti ho perdonato, ti posso solo perdonare, ci hai dato una gioia incredibile. Ora i tifosi giuventini si incazzeranno, anzi sono già incazzati. Mi diranno che io godo solo delle sconfitte degli altri, mi diranno che noi possiamo solo festeggiare appunto le sconfitte degli altri, che sono dieci anni che non vinciamo un cazzo, a me non interessa. Il presente dice che sono loro che mi hanno sempre invitato a guardare il presente. E oggi il presente dice che noi siamo dieci punti davanti, il campionato è lungo, è vero, ma questi dieci punti che siamo avanti per il momento me ne vanto. Mi vanto di questi dieci punti. Mi vanto del fatto che siete andati fuori con il Porto, fuori dalla Champions League, che il triplet la prossima volta, la prossima volta, la prossima volta. Sono contento che finalmente si comincia a parlare anche, tra virgolette, mediaticamente male di voi. I giornalisti adesso cominciano a dire che siete una squadra di merda. La Pirlolandia non esiste più. Che Cristiano Ronaldo è finalmente diventato un terrestre, dopo ieri sera. che Cristiano Ronaldo comunque potrebbe essere il problema della Juve, proprio perché è il giocatore più talentuoso, non è inserito negli schemi della squadra. Questo è evidente. Sembra che gioca meglio senza. Senza Cristiano Ronaldo sembra che giocate meglio, come avete battuto la Lazio. Ora invece avete perso con il Porto. Anzi, avete vinto, che poi, che poi, aspettate un attimo. La cosa più bella, che mi ha divertito di più, è che non solo vi hanno dato 200 minuti di tempo per fare, per ribaltare la sfida. Vi hanno dato un uomo in più, cioè un uomo in meno al Porto. Siete andate supplementari, quindi avete fatto 120 minuti. Avete anche vinto 3 a 2, ma siete usciti. Guardate, veramente, è stato l'apoteosi per me e per noi tifosi interisti. Mi fa sorridere vedervi incazzati in ogni vostro post sui social. Cercate sempre di provocarci. Ora, ultimamente, vedo che ci provocate in tutti i modi. Non ci avete cagato fino a ieri? Adesso, improvvisamente, ci odiate. Esce fuori tutto il vostro odio, tutto il vostro antisportivittismo. Come cazzo si dice? Veramente, è una gioia pura, una gioia pura. Ragazzi, che vi devo dire? Il campionato è lungo, magari potete ancora farcela. In ogni caso, io comunque vada al finale di stagione, sono orgoglioso perché vi abbiamo fatto impazzire e vi stiamo facendo impazzire. Quindi, per il triplet sarà la prossima volta, la prossima volta, la prossima volta. Per la Champions League sarà la prossima volta, la prossima volta, la prossima volta. Per lo scudetto, penso, spero pure, la prossima volta, la prossima volta, la prossima volta. Ciao Juve! Ciao! Ciao!